Buongiorno a tutti amici di Visione TV, ben ritrovati con questa nuova puntata di Hollywood Propaganda. Continuiamo la nostra carrellata di film dedicata all'intelligenza artificiale e lo facciamo insieme a Roberto Quaglia. Ciao Roberto, buongiorno. Buongiorno, ciao Enrica, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano. Come sei estivo già oggi? Sono floreale, perché oggi parliamo di un film di buoni sentimenti. Molto, di natura, piena natura, proprio natura. Allora, The Pod Generation, in italiano i figli dell'intelligenza artificiale. Vediamo la scheda di questo film, la regia di Sophie Barthes nel cast e da ricordare la presenza in particolare di Emilia Clarke. Non so come si legga il nome del suo coprotagonista che interpreta il marito, c'è anche Vinette Robinson. L'anno è del 2023. me ne aveva parlato moltissimo Sebastiano, un amico qua di Torino, tra l'altro di DSP, ne aveva parlato anche a una cena dove c'era Roberto. Continuava a dire, devi vedere Henry, figli dell'intelligenza artificiale. Figli dell'intelligenza artificiale. L'ho trovato e ho costretto Roberto, dopo la vaccata di Atlas, a vedersi anche questo film. Allora, prima di commentarlo insieme a Roberto, vediamo la trama. Ci troviamo in una New York, in un prossimo futuro, dove tutto è ovviamente ipertecnologizzato, sembra di trovarsi un po' in una società in stile il mondo nuovo di Axley. Le vite delle persone sono meticolosamente regolate, sorvegliate dall'intelligenza artificiale, che fanno anche da assistenti personali, monitorano l'alimentazione, il modo di vestirsi, l'esercizio fisico e svolgono persino la funzione di psicoterapeuta. La psicologa si chiama Elisa, vabbè qua c'è un riferimento chiaro sempre all'Elisa IA. In questa società dove tutto è stato ottimizzato per ottenere il massimo potenziale da ciascuna situazione, da ciascuna persona, è possibile anche avere un figlio senza dover affrontare una gravidanza, perché ci sono dei centri specializzati, molto elitari, con delle liste d'attesa, grazie ai quali è possibile impiantare, in seguito far crescere gli embrioni, dentro un cosiddetto guscio, da cui poi il titolo The Pod Generation, che viene realizzato appositamente, con una specie di membrana, che funge da sostituto del ventre materno per tutta la durata della gestazione. Rachel, che è interpretata da Emilia Clarke, una donna in carriera, e Aldi in marito un botanico, che ha un'anima ecologista, si confrontano con la prospettiva di una gravidanza artificiale, perché la scelta dei due è di ricorrere a questo stratagemma, non è soltanto un dilemma tecnologico, ma diventa nell'arco del film anche una profonda questione etica e emotiva che li costringe a riesaminare il loro rapporto, le loro convinzioni, le loro emozioni, anche i loro sentimenti. Roberto, ti è piaciuto questo film o hai tenuto dall'altra puntata la bambolina voodoo sulle ginocchia con gli spilloni, la bambolina voodoo con le mie fattezze? La volta scorsa abbiamo commentato Atlas, che era un non film, perché non c'era una trama, non c'era una storia. In questo film una storia c'è, quindi ecco, almeno quello. L'idea è anche interessante, per cui non è che non ci siano idee in questo film. È proprio che è fatto male il film, secondo me è fatto male, perché è lentissimo, è noiosissimo, ci sarebbero volute 20 volte più idee rispetto a quello che hanno usato e ci voleva un'altra sceneggiatura. Avrebbero anche potuto fare un film interessante se lo avessero fatto, e non lo hanno fatto. Però c'è un'idea alla base che è abbastanza curiosa e inconsueta questo uovo con cui appunto si instaurano poi dei rapporti affettivi, come vedete dalle immagini in sovrapposizione viene portato in giro, viene anche sovrapposto alla pancia per creare l'illusione della gravidanza, e comunque questo sorta di disturbo mentale che ne consegue, perché poi evidentemente ci sono dei problemi psicologici forti che appunto colpiscono questa coppia in virtù della scelta che hanno fatto, sarebbe anche un tema interessante, è solo sviluppato male, secondo me. Per il resto appunto abbiamo un uomo che non voleva fare nulla di naturale, era il personaggio riottoso rispetto a queste modernità come l'utero artificiale esterno, mentre è lei che peraltro era quella che portava i soldi a casa, in famiglia, perché era quella che guadagnava, che decide di fare questo passo e usufruire di questa possibilità di fare un figlio con un utero esogeno, però con un utero esterno artificiale. però poi c'è la conversione di lui nel corso del film dove interloquendo appunto con l'intelligenza artificiale psicanalista, si convince che praticamente si trasforma, si trasforma anche lui in un seguace di questo fetish, perché poi alla fine c'è tutta una sorta di feticismo che si sviluppa intorno all'uovo. Come detto, l'idea ha anche degli elementi di interesse, poi il film l'ho dovuto guardare in tre parti diverse, a un certo punto l'ho interrotto e mi sono dovuto guardare una puntata della famiglia Adams per registrarmi, perché potrebbe sembrare poco serio, ma è stato l'unico modo in cui sono riuscito a finirlo, per vedere qualcosa di normale e poi ho ripreso la visione del film. Ho dovuto interrompere due volte. Tu parlavi del marito, il personaggio del marito, ma questa conversione non avviene un po' troppo velocemente, perché alla fine gli è bastato un attimo confrontarsi con la moglie ed ha incazzato nero perché lei ha deciso di andare a fare questa visita nel centro, in questa clinica senza dirgli nulla, addirittura ha già pagato anche l'anticipo e lui non ne sapeva assolutamente nulla e parla con questa intelligenza artificiale con cui assolutamente non voleva parlare questa Elisa e nel giro di 5-8 minuti forse anche meno si convince, si converte. Ma anche in questo caso a livello psicologico la sceneggiatura, ma perché? Perché così velocemente? Infatti io ho detto che è fatto male, perché l'idea poteva essere anche interessante, ma sarebbe dovuta svilupparsi in modo più coerente. Cioè non è molto credibile nell'insieme, è pretestuoso, sembra voler veicolare appunto dei messaggi. Io non penso che si tratti di un film particolarmente hollywoodista, perché diciamo che la manipolazione di tipo hollywoodista in maniera di solito è riconoscibilissima e scolpita con l'accetta. Questo qui sembra un film che si inserisce comunque in un filone, ma ha anche delle ambizioni di lieve critica sociale rispetto a questo tipo di sviluppo. Quindi poi come detto proprio nelle modalità in cui è fatto sembra un prodotto genuino, diciamo brutto ma genuino. sembra però poi sembra anche voler abituare lo spettatore a simpatizzare con tutta una serie di dispositivi tecnologici, perché poi questa reazione per modo di dire che avviene verso il finale è abbastanza anacquata, quindi per più di tre quarti del film in realtà tu subisci tutta una serie di di filosofie, di dottrine e soprattutto di dialoghi tipicamente transumanisti, fintamente femministi che ti dicono che la donna sarà emancipata soltanto quando riuscirà a eliminare l'elemento della biologia, quindi adesso in questo futuro in cui non deve subire il fardello della gravidanza, non deve partorire, quindi la parità, l'equità con l'uomo c'è stata e tutta una serie di di dialoghi tra l'altro a Suri soprattutto sul luogo del lavoro di Emilia Clark o con una coppia di amici stereotipati, quindi in realtà non rientra un po' però almeno nel filone hollywoodista questo voler far passare un messaggio anche quando sembra criticare, ma in realtà poi ci rientra in quel filone secondo me non è proprio propriamente olivista nel senso che se l'avessero fatto con quel obiettivo lo avrebbero fatto meglio cioè sarebbero andati giù più pesanti con certi concetti mentre qui è tutto abbastanza attenuato però si inserisce assolutamente in quel filone indubbiamente quindi diciamo che rientra in quella sorta di nuovo politicamente corretto che è quello appunto della tecnofilia dell'utero artificiale come un progresso sì c'è una lieve critica alla fine con questo ritorno alla natura diciamo che però come detto nell'insieme il film l'ho trovato piuttosto ansiogeno perché questa coppia che continua a girare con questo uovo che ti sembra che da momento all'altro possa cadere e fare una grande frittata ma io adesso non vorrei fare uno spoiler però io mi ero anche immaginato a un certo punto ho detto sta a vedere che sì alla fine del film gli casca l'uovo e ne esce fuori un grosso pulcino di struzzo gigantesco no non dire al finale non raccontarcelo Roberto e sei spoilerato infatti adesso io volevo dire esatto no io non volevo dire se ci ho questo era quello che mi si è immaginato può darsi che ci abbia azzeccato può darsi che no lo scoprirete appunto vedendo questo film e però ecco la sensazione è telefonata per tutto il film che poi possa succedere questa frittata finale quindi non diciamo se avverrà o meno però il tema è quello poi tra l'altro questo è integrato da un messaggio subliminale che è quello del fatto che l'attrice principale Emilia Crack era anche la regina dei draghi nel film appunto la madre dei draghi scusate nella grande sceneggiata opera va beh insomma fiction si dice la serie Game of Thrones il trono di spade dove lei era appunto la madre dei draghi che a un certo punto reggeva in mano queste uova di drago che guarda caso erano più o meno dello stesso tipo quindi ecco questo non c'entra niente con la nostra analisi però visto che abbiamo fatto un mezzo spoiler forse vero forse finto sul fatto che poi dentro ci sono delle galline o degli struzzi mettiamoci dentro di draghi potrebbero essere anche dei draghi scusa adesso sei tu che spoiler sono io che spoiler ma a te non è sembrato di vedere degli adulti idioti con i tamagotchi perché poi alla fine questi 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 uovi artificiali sembrano poi la fine i tamagotchi perché poi hai l'app per monitorare le funzioni vitali del drago del bambino interno il cibo che gli devi dare la base che dura soltanto 48 ore la devi caricare cioè sembra però un tamagotchi perché poi squilla anche suona scatta l'allarme se ti sei dimenticato di dargli da mangiare parte la musichetta del carillon quando forse deve uscire sto bambino cioè sembra un tamagotchi ma infatti è proprio perché questi questi qui sembrano dei deficienti con un tamagotchi vengono fuori essenzialmente alla lunga come dei personaggi abbastanza psicopatici che giocano con un tamagotchi e io penso che non ci sia poi così tanta intenzione manipolatoria nel film proprio perché avrebbero fatto dei personaggi forse un po' più credibili o un po' meno alienati però effettivamente l'elemento di anticipazione c'è l'elemento di preparazione del pubblico ad un futuro che non sarà molto diverso da quello che abbiamo visto perché gli uteri artificiali li stanno veramente studiando e veramente si vuole separare in futuro il processo appunto della gestazione di figli da lo sviluppo in famiglia anche perché il figlio concepito artificialmente fuori dal grembo materno in qualche modo appartiene di più allo stato al sistema o alla corporation che eventualmente avrà la gestione di questi uteri molto di più di quanto possa appartenere ora infatti in questo film ci sono degli elementi che suggeriscono che la corporation che gli dà questo utero trasportabile poi abbia anche delle rivendicazioni sul figlio poi verrà specificato che non è sul figlio stesso ma è sull'utero stesso quindi di fatto il figlio diventa un loro ostaggio nel momento in cui l'utero è di loro proprietà quindi i genitori perderebbero il diritto di fare del figlio ciò che vogliono fino al momento della sua nascita oppure lo struzzo come dicevo prima c'è poi anche il tema femminista dell'emancipazione femminile che passa attraverso l'abolizione e l'abbattimento delle catene biologiche della natura e quindi della gravidanza e l'utero artificiale e l'ectogenesi come simbolo della parità dei sessi da uomo e da scrittore di fantascienza come leggi la trasposizione di questa tematica che è assolutamente vera perché ci sono già diversi bioeticisti da Enri Atlan a Anna Smydor e Vicendal per esempio che sostengono l'ectogenesi quindi la creazione di uteri artificiali come una modalità per rendere paritarie le donne agli uonimi e quindi sgravarle dalla gravidanza del parto di fatto questo tema viene fortemente sviluppato in questo film dove viene esplicitamente menzionato appunto il superamento di questa schiavitù della donna rispetto all'esigenza biologica appunto della gravidanza e quindi penso che ci siano elementi ideologici notevoli a riguardo notiamo anche che poi nel novero dei luoghi comuni del politicamente corretto obbligatorio c'è anche la solita coppia mista per cui appunto lui è molto più abbronzato di lei però io lo menziono per notare una contraddizione affascinante che c'è nel film perché quando lei nel corso del film a un certo punto sogna di avere il bambino io adesso forse ci vedo male ma a me sembrava che il bambino fosse di pelle chiarissima e quindi sarebbe una contraddizione abbastanza interessante sul fatto che appunto lo abbia fatto con un marito molto più scuro di lei quindi a rigore di logica il bambino avrebbe molte più probabilità di uscire diciamo una gradazione di colore più intensa però nel suo sogno sembrerebbe che lei sia intrinsecamente razzista mettiamola così il suggerimento inconscio è quello se ho visto bene il colore appunto del bambino nel suo sogno nella realtà invece scoprirete se poi nasce un polletto un drago un cucino gigante che cosa nascerà l'altro elemento che si sente in maniera molto forte e la creazione la descrizione di questa società tecnologicamente avanzata che però è anche assettica iper funzionale tutto deve essere funzionale ed efficace che si basa sul distanziamento tra i genitori e i figli non a caso si parla della teoria dell'empatia e della della vicinanza non soltanto in gravidanza ma anche successivamente dei genitori con i bambini come una teoria degli anni 70 superata e quindi l'etogenesi e poi successivamente tutti questi i rapporti sociali si basano proprio su questo distanziamento sociale addirittura all'interno della famiglia alla luce di quello che è successo insomma negli ultimi anni a proposito di distanziamento sociale e ricordando l'universo distopico di Axel e del mondo nuovo che cosa ti viene in mente quali spunti ti vengono in mente sì effettivamente c'è un aspetto contraddittorio in questo film è che come hai detto tu giustamente vengono messe in risalto tutte queste innovazioni mettiamola così anche sociali e poi come hai detto questo uovo che contiene la prole che praticamente è quasi obbligatoriamente distanziato socialmente dai genitori poi loro come detto violeranno un pochettino questo tipo di regola ma viene enunciata questa regola quindi viene detto il futuro sarà quella poi viene dato infatti come contentino non so come piccola soddisfazione di giustizia allo spettatore la loro modesta ribellione molto modesta a questo tipo di misure il fatto di volersi riappropriare dell'uovo tenerselo in casa quando tutti gli altri lo tengono in clinica portarlo nella natura però sono delle delle forme di ribellione molto modesta e peraltro abbastanza sconclusionate da un punto di vista della trama perché poi insomma essi violeranno alcune delle regole che avevano sottoscritto evidentemente quando hanno preso questi utili affitto quindi non è chiaro come vada a finire da un punto di vista legale per i protagonisti se incorreranno in multe sanzioni o altre o altre ritorsioni da parte appunto di chi aveva fornito loro l'uovo che adesso forse abbiamo di nuovo sperato che lo rientro hai fatto a me ha colpito forse 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 a me ha colpito la scena in cui mettono sul luogo di lavoro non si possono tenere questi gusci nemmeno sulla scrivania ma li mettono tutti in uno sgabuzzino tutti insieme chiusi in questo mobile stile chea anche quello forse è il punto in cui questa teoria del distanziamento sociale di questa società settica ambientata nel futuro si fa più marcata perché sono tutti contenti di avere questo tamagotchi però poi non è visto bene se lo porti a lavoro e anzi lo devi nascondere perché è volgare perché è imbarazzante sì questo è un aspetto è un aspetto certamente e poi c'è un altro aspetto c'è qualche idea interessante questo film a livello così di spunto di riflessione spunto critico come per esempio la scena che si è intravista nel trailer che abbiamo visto prima dove la protagonista passa in un supermercato di bambini dove può scegliere quante comprarne questo era un suo sogno evidentemente non è una scena diciamo del film cioè della storia del film ma è il tipo di sogno che lei fa in questo suo titubante percorso verso un minimo di ribellione ecco dove evidentemente sogna di comprarsi il figlio al supermercato che comunque è il tipo di scenario verso il quale intrinsecamente questo film ci dice che la società è diretta ecco e non può venire non può non venire alla mente appunto il già esistente orribile fenomeno del cosiddetto utero in affitto appunto dove si schiavizzano delle persone essenzialmente in cambio di denaro per sappiamo per quale motivo e in futuro questo potrebbe essere fatto in modo artificiale con gli uteri artificiali in modalità industriale quindi essenzialmente il passo successivo a quello della gestazione del proprio figlio in in modo artificiale sarebbe quello di comprare il figlio già fatto interamente notiamo anche che all'inizio del film viene proposta alla coppia anche la possibilità di scegliere non solo il sesso del bambino che si accingono a produrre ma anche altre caratteristiche ovvero il figlio potrebbe anche essere esclusivamente figlio di lei soltanto viene detto esplicitamente ovvero il maschio è completamente inutile in questo processo poi loro in maniera eccentrica decideranno di fare un figlio che sia il frutto appunto dei gameti di entrambi quindi vecchio stile cosa che sorprenderà appunto la funzionaria della società degli uteri artificiali evidentemente il suggerimento è che la maggior parte delle persone a questo punto nel momento in cui producono un figlio appunto con gestazione meccanica esterna scelgono anche le caratteristiche del figlio proprio come con un catalogo come in un negozio e beh come alla fine già immaginava Axley con la suddivisione in cast con queste nuove generazioni che sarebbero state selezionate in vitro e poi nate all'interno proprio di utili artificiali grazie Roberto per aver commentato questo film con me grazie a te Enrica come detto un film che non è né carne né pesce si propone come film di critica di uno stato delle cose che però in realtà promuove ma se fosse veramente critica sarebbe andato giù molto più pesante diciamo su certi aspetti cosa che non ha fatto quindi come hai detto tu all'inizio la sensazione è più quella che abbia fatto da promozione a un certo tipo di cambiamenti anziché di critica rimane comunque molto molto ambiguo però la percezione è quello che poi questa ribellione che gli spinge verso la natura sia proprio una parte poi minima del film stesso e soprattutto poco convincente perché poi sono poco convincenti i personaggi e l'evoluzione dei personaggi stessi si è didascalico è un contentino che viene dato allo spettatore un contentino perché tutti vissero felici e contenti grazie ancora per essere stato con me ciao grazie a te Enrique un saluto a tutti grazie a tutti per aver seguito anche questa puntata di Hollywood Propaganda insieme a Roberto Quaglia buona continuazione buona serata e ci vediamo come sempre domenica prossima alle 18 su Visione TV per aver guardato un saluto a tutti per aver guardato un saluto a tutti per aver guardato